Oggi fare l'imprenditore in Italia non è più non solo banale ma neanche facile. Essere imprenditori oggi, non banale e nemmeno facile. Pensieri e parole di Alessandro Trentin, presidente regionale Veneto di Confimi, la Confederazione dell'Industria Manifatturiere Italiana e dell'Impresa Privata, che in Veneto sta crescendo in modo esponenziale. Servono risposte e sono quelle che Confimi prova a dare con questo convegno nello storico palazzo del municipio di Montegalda. Anche nel Vicentino, la provincia con il primato italiano di export pro capite, sono molte le piccole e medie imprese che non hanno ancora intrapreso un percorso strutturato di internazionalizzazione. Eppure i mercati esteri rappresentano un'opportunità importante di crescita, bisogna però conoscere i servizi di supporto all'export. Da un incontro come questo se ne esce intanto con la consapevolezza dei numeri che servono all'imprenditore per vedere come ad esempio in un'automobile quali sono i livelli del motore, quindi se sta girando tutto in maniera compiuta, ma anche rispetto al mondo esterno, principalmente il mondo bancario, che ovviamente sempre di più ci valuta sui numeri più che sulle prospettive. Il primo dato è la sostenibilità dell'impresa stessa da un punto di vista finanziario, perché se un'impresa è sostenibile sotto quell'aspetto, allora inizia a osservare anche tutti gli altri dati. Massima attenzione ai dati aziendali, quelli economico-finanziari e quelli di magazzino e controllo, soprattutto in un momento estremamente complicato come quello che stiamo vivendo. In questi ultimi due anni abbiamo sofferto per reperibilità dei componenti, molte aziende per sopperire a questo. Sono dovuti avere magazzini molto, molto importanti e oggi si ritrovano con valori di magazzino estremamente elevato e dall'altra parte con una situazione di mercato estremamente preoccupante, per cui considerare i dati aziendali è fondamentale per la sostenibilità dell'impresa.